buongiorno sono urbano della sani moreno volkswagen audi di fucecchio oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco usato si tratta di questa bella toyota rav4 dell'anno 2015 ed è un 2012 cilindrata 150 cavalli cambio automatico vi farò vedere poi lo specifico intanto da queste immagini potete vedere lo stato d'uso della carrozzeria esterna che si presenta in un modo veramente eccellente non ci sono graffi non ci sono ammaccature veramente belle brillante tenute in un modo veramente eccezionale cerchi lega da 18 pollici telecamera posteriore poi vi farò vedere anche lo specifico anche di questa quindi esternamente bella internamente la tappezzeria anche questa è stata tenuta in un modo veramente eccezionale non presenta strappi non presenta usure non presenta tra l'altro buchi di sigarette perché il precedente proprietario non fumava quindi internamente veramente bella e profumata anche perché la tappezzeria è stata naturalmente come il nostro solito lavata ed igienizzata a vapore solamente 126 mila chilometri a livello di accessori abbiamo il suo navigatore ora vi farò vedere la la cartina il climatizzatore automatico cambio automatico ecco la cartina del navigatore ecco la telecamera posteriore bluetooth volante multifunzione cruise control quindi veramente una macchina bella bella e molto accessoriata già disponibile per la vendita quindi potete già telefonare ai nostri numeri per prendere un appuntamento venirla a vedere e provare a dimenticavo questa è un 4 ruote motrici quindi molto adatta anche all'uso di montagna possibilità di pagamenti rateali a tassa agevolata possibilità di ritirare il posto usato è già un pronta consegna andate tra l'altro sul nostro sito diretto autosani.it troverete tutte le spiegazioni più dettagliate su questa vettura e tutte le nostre altre proposte per quanto riguarda il nostro usato e vetture aziendali visitatelo perché è molto bello a questo punto io vi ringrazio per l'attenzione come il nostro solito vi aspettiamo al nostro punto vendita di fucecchio e come diciamo sempre alla prossima vettura